Ci sarà l'incidente probatorio sul tragico incidente sul lavoro che ha provocato la morte di due operai ed il ferimento di un terzo. A richiederlo è il sostituto procuratore della Repubblica di Corotone, Andrea Corvino, che è anche titolare dell'inchiesta. Con l'incidente probatorio dovranno essere accertati, ripetiamo testualmente le motivazioni del dottor Corvino, l'epoca, la causa, la natura ed i mezzi che hanno determinato il crollo del muro, i materiali e le modalità di costruzione dello stesso, nonché la congruità dell'opera rispetto alle indicazioni progettuali ed esecutive con particolare riferimento ai terreni di fondazione. Fin qui i motivi sottolineati nella richiesta dell'incidente probatorio che dovrà dimostrare quali sono state le cause alla base del grave incidente sul lavoro e alla conseguente morte dei due operai. Una particolare azione investigativa sulla quale il dottor Corvino intende fare subito chiarezza. Ricordiamo che nel registro degli indagati, per l'ipotesi di omicidio colposo, sono iscritte sei persone che a vario titolo potrebbero avere avuto responsabilità su questo grave incidente di lavoro.